Siciliana di Palermo. Bene, come vedete è una squadra bella, forte, plurale, di un partito che si apre, che è curioso, che cerca le migliori competenze dentro e fuori di sé. Io non posso essere più felice che siamo riusciti a mettere insieme questa squadra. Naturalmente arriviamo anche al punto su cui si è discusso molto in questi mesi, lo voglio dire subito senza giri di parole. Voglio dare una mano anch'io a questa squadra e per questo ci sarò anche io candidata e mi candido a sostenere queste candidature e naturalmente a provare insieme a portare più in alto possibile il Partito Democratico. Ne abbiamo bisogno perché, come ci siamo detti anche in questi giorni, la nostra famiglia socialista sarà l'unico vero argine all'avanzata delle destre nazionaliste in Europa. Per questo abbiamo bisogno del vostro forte supporto e per questo abbiamo bisogno che tutti noi ci mettiamo di corsa, insomma dare il nostro contributo. Io ho la speranza in questo modo di poter dare una mano a eleggere il più possibile di queste persone straordinarie che si sono messe a disposizione.